Pronti a combattere, Gormiti qui per vincere, Gormiti irraggiungibili, chi vi temerà? The legend is back, the legend is back, Gormiti! Questo, sì, sì, ci sta Lord Titano, sto pensando se Antium, non so, porto a Gormiti. Ciao Gianni, cosa stai facendo? Ciao Giada, sto mettendo i collezionabili dentro lo zaino perché porto al mare io tra poco, non li vedi tutti lì da sole? Sì, sei già bello pronto, però non ti sei accorto che è iniziata la puntata? No. Eh, salutiamo i nostri amici. È giusto. Ciao ragazzi, ben giornati al Gormiti Show! Ah, vado via al mare allora. Sì, vado al mare. Mi porti tutti, posso, me ne infesti questi due? No, tu ce li hai i tuoi e ti porto i tuoi, io mi porto i miei e tu ti porti i tuoi. Guarda che belli questi, poi mi porto... Che c'è? Tieni. No, no, dammi quello che stai nascondendo dietro la schiena. Non sto nascondendo niente. Porta, ne lo dai, no. Non c'è niente. Ma sei lì? No, dove? Beh? Non si rubano i Gormiti. Ma Johnny, lo sai che c'è una sorpresa? Che sorpresa c'è? Una novità, guarda un po'. Guardiamo. Aspetta che metto gli occhiali così vado a me. SEMFESTA COSMICA Ci rincontreremo presto, guardiani! Lo state guardando? Secondo voi chi sarà il vincitore? Forza, ditecelo, dai. Potete anche scrivercelo. Scrivetecelo così e siamo curiosi. Dove è gourmitishow.com, giusto? Giustissimo. Allora. Adesso Johnny, tu vorresti sfidarmi, vero? No. Lo vedo nei tuoi occhi. No, no, perché se ti sfido già da perdi, poi piangi e non voglio, ok? Quindi non ti sfido questa volta. O ci tieni proprio. Certo, perché devo vincere. Ma già, da... Mi sono allenata, lo sai? Mi sono allenata moltissimo. Va bene, va bene. Dai, adesso andiamo. Fammi finire di preparare un zaino. Andiamo, andiamo. Eccoci qui. Ma cosa sei felice, Giada? Ogni volta iniziamo così quando c'è la sfida. Perché sento che vincerò oggi, eh. È impossibilissimo. Sento l'energia gormitica. Quale? L'energia gormitica. Non ce l'hai. Per vincere, sì che ce l'ho. Non ce l'hai. Allora. Dai. Dai, te esca. Ecco, quella perdente. Ma perché? No, no. Eh, no, no. Vincerò. Questa è sicuramente quella vincente. Giada, hai già perso. No, tu l'hai perso. No, tu l'hai perso. Tu l'hai perso. Tu l'hai perso. No, guardare. Sorpresa. Sorpresa. Io ho guardato. Perché rido? Perché rido perché so cosa hai trovato. Sei pronta a mostrarlo insieme? Io ho trovato. Facciamolo così. Perché è uguale. Ma davvero? Lì in camera centrale insieme. Tre, due, uno. Lord Titano. Lord Titano. Abbiamo lo stesso numero, numero sette. È il numero sette. Anche questa volta vinciamo uguali. Mi piace così però, vai. A me no, a me non piace tanto così. È una piccola vittoria per me. Sì, vabbè, ci sta. Come ci sta? Vabbè, Giada, se noi ne facciamo subito un'altra. No, 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 no. Perché c'è un nostro amico che ci sta aspettando. Andiamo dal nostro amico. Andiamo. Ciao. Ciao. Prima di tutto, come ti chiami? Sadaru. Sadan? Sadaru. Ti hai capito? Sadaru? Ma che è Salaru? Sì, mi chiamo... Sadaru. Ma sì, ma lei ha detto solo... Lei ha detto solo... Hai chiamato, Sadaru. Sadaru, Sadaru. Ciao. Ma sei un super fan. Ciao. Con già con la maglietta. Wow. Wow. Poi ce l'ho l'or titano. No, vabbè, bellissimo. Poi ce l'ho anche l'or titano. Eh, lo vediamo. È il mio preferito l'or titano, fammelo vedere un po'. E' l'or titano. Aspetta, girolo un po'. Ok. Tra l'altro abbiamo visto che sopra, sullo scaffale là in alto, c'è il titano degli elementi che veglia su tutti i gormiti. Ma ce li hai davvero tutti? Guarda quanti ne hai. Ci sono 40. Oh, 40. Eh, sono tantissimi. Ma sei super gormitico te, vero? Ma c'è pure la maschera. Girati un attimo, girati un attimo. La maschera di Kierion. Tu lo sai che Kierion è il mio preferito? Sì. Ah, è risa tutto. L'hai fatto apposta, eh? Tra l'altro abbiamo anche la maglietta uguale. oggi, colorata, dello stesso colore. È vero, mi siete messi d'accordo voi due? Ma quanti anni hai? Io, ma... Quasi sette. Ah. Ah, quasi sette. Ma è il tuo gormito preferito, qual è? Quello che pensi che sia il più forte di tutti. Sì. Lord Kierion. Lord Kierion. Anche Lord Soul. Bravo, bravo, bravo. Ah, Lord Soul sì, ma anche secondo me è molto forte. Ma Lord Eclos ti piace? Sì. Ah, piace anche Lord Eclos. Ma di solito quando giochi con i gormiti cosa fai? Fai dei combattimenti? Fai delle storie? Fai delle storie? Le storie no. No. Però dei combattimenti. Ah, è Lord Kierion. È tutto Lord Kierion. Dove era finito Lord Kierion? Dove era? Era a fare un pisolino. Era a dormire. Beh, era a dormire, era a dormire. È stanco, dopo tutte le battaglie che ha fatto si doveva riposare. Giustamente, giustamente. Doveva fare la nana. Quando vai, Duss? Eh, e poi Duss non stava dormendo? No, quello è sempre sveglio. No. Allora, prima di chiudere noi facciamo una cosa per salutarci e per stare insieme, che è aprire le braccia. Apri le grandi grandi. Ok, carino. E poi ci abbracciamo. Stringi forte. Bravo. Facciamo un abbraccio virtuale. Perché noi adesso dobbiamo procedere con la puntata. Ci ha fatto piacere stare con te. Ti salutiamo. Tantissimi baci. Grazie, grazie per essere stato con noi. Ciao. Buone battaglie. Ciao. Buone battaglie. Ciao. Allora Giada, c'è da dire davvero un grandissimo grazie ai bambini che ci seguono e vogliono parlare con noi. Hai proprio ragione, Gianni. Ma un mega grazie così grande. E mi raccomando, andate anche voi sul sito gormitishow.com per partecipare. Esatto. Ora Giada, è arrivato il momento della bacheca gormitica. Oggi ci sono arrivati due disegni e una foto. Iniziamo con la foto di Filippo. Allora, la foto ce la manda Filippo e ci scrive. Ciao Gianni e Giada, vi mando la foto della mia collezione. Sono un grande esperto di gormiti e i miei preferiti sono Crobo, Zarno, Sol e Zephyr Alpha. Wow. E tra l'altro li hai nell'altra super collezione. C'è pure i bracciali. E c'è pure il titano di elemento che sorveglia su tutti. È vero, eccolo qua. Wow. E qui è un super esperto lui. Sei super esperto, si vede, si vede che sei super esperto. Anche da come li hai posizionati tutti così perfetti. Grazie per averci mandato la tua super collezione. E partecipa al gormitishow, così chiacchieriamo. Certo. Ok. Poi Flavio e Giulia, sono due fratellini. Ma che belli questi disegni. Che carini. Allora ci scrive. Ciao, siamo Flavio e Giulia, due fratelli appassionati dei gormiti. Già me li immagino lì che giocano in camera. Che bello che giocano insieme. Ci piacciono molto le puntate del gormiti show. Grazie. E speriamo che facciate vedere i nostri disegni. Eccoli. Grazie di farci divertire con i vostri video e con le vostre sfide. Eh sì, grazie. Ma guarda, ci hanno anche scritto delle cose. Ci sono dei fumetti. E c'è una piccola storia. E in uno ci scrive, ciò sono Flavio, otto anni. Con la battaglia scudo-vulcanico. Quel frammento è nostro, bellissimo. Che bello. Bravo, bravo. Complimenti davvero. Grazie. Mi raccomando, mandateli anche voi questi disegni a gormitishow.com che noi siamo sempre felicissimi di vederle e di commentarle. Sì, veramente i vostri disegni è proprio un momento speciale questo. Sì, è il vostro momento. È il vostro momento con noi e noi con voi. Grazie, grazie, grazie. Gianni, però la puntata purtroppo è finita anche oggi. È vero, è vero, è vero. Dovemo salutare i nostri amici. Allora, dovete assolutamente seguirci su tutti i nostri canali social che sono Facebook, Instagram, Instagram, il nostro canale ufficiale di YouTube. E mi raccomando, mettete tantissimi like, commentate, condividete. Fate tutto quanto. Fate vedere i vostri amici, scaricatevi l'app, guardate il torneo di tutto quanto. Insomma, seguite i gormitishow. Basta. Un saluto. A Gianni. E Zada. Ciao. 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 Ciao.